fischia 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 va bene così va bene così genuali del multiverso ciao a tutti buongiorno è terminata adesso che sofferenza secondo tempo napoli genoa complimenti al napoli una ottima prestazione nei secondi 45 minuti noi siamo partiti molto forte adesso andiamo ad analizzare tutto iscrivetevi sempre al canale attivate la campanella lasciato un bel like per supportare i nostri contenuti di guardo genoa con papà e veniamo al fulcro dell'analisi di questa partita l'inizio secondo me è stato ottimo il primo tempo in realtà le occasioni migliori le abbiamo avute noi con matteo particolarmente ispirato con messias particolarmente ispirato vedremo poi come sia sa anche cos'è accaduto su gol di su gol di friend group io ho visto un grande genoa inizialmente secondo me il modulo scelto è stato giusto quindi con albert leggermente arretrato rispetto a matteo gli inserimenti da parte di isabelli e da parte di messias il napoli aveva tra ore estremamente ispirato anche sa idem sono arrivate delle occasioni abbastanza ghiotte anche per il napoli si può dire da dalla loro parte martinez primo tempo ottimo ottima tutta la difesa tra l'altro nel napoli avevamo contro ostigard che ha giocato bene ammonizione presa secondo me in maniera dubbia un po prestino a parte e ci ha dato l'anima perché giocava contro di noi è stato trattato sul mercato per non so quanto tempo per noi e quindi secondo me ci teneva ostigard a fare bella figura è stato sostanzialmente un primo tempo che mi aveva mi ha lasciato estremamente contento il genoa mi è piaciuto molto se avessimo segnato secondo me non dico niente di impopolare non mi uccidano napoletani o altri tifosi se il genoa avesse segnato il primo tempo secondo me non avrebbe assolutamente rubato niente a nessuno perché matteo ha avuto due occasioni ghiottissime ce ne sono state altrettante c'è stata una palla in mezzo che albert non ha preso per un soffio di occasioni ce ne sono state anche da parte del napoli ma se noi se noi ne avessimo trasformata una non avremmo sicuramente rubato niente a nessuno secondo tempo partenza al fulmicotone gol subito alla grande di fredrup sono molto contento di per fredrup perché spesso diciamo che non tira mai in porta a sto giro ha tirato e finalmente arrivato il primo gol in serie a di fredrup quindi grande fredrup ci voleva assolutamente da quel momento sapevo che sarebbe stata un'altra partita e lo è stata in realtà perché chiaramente il napoli è venuto sotto ha cambiato modulo e quindi è passato a un modulo molto più offensivo avevo terribilmente paura proprio lo sognavo dall'inizio sulla possibile l'entrata di ngong o avevo il terrore e infatti è stato un pensiero corretto perché chiuditi 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 e prima o poi il gol arriva un napoli che sinceramente anche se ha ricevuto un sacco di fischi che secondo me in alcune parti della gara sono state assolutamente immeritate perché il napoli l'ha fatta dal diciamo dal decimo del secondo tempo in poi ha fatto assolutamente la partita secondo me tutti quei fischi riguardo al secondo tempo sono stati immeritati perché il gol del geno è stato ottimo è stato ben eseguito ben congegnato e ben realizzato il napoli ci ha provato con tutte le sue forze secondo me i fischi sono stati un pochettino immeritati ho paura che per mazzarri siamo arrivati un pochettino alla frutta quaraschelia alcuni giocatori del napoli li ho visti molto nervosi quindi questo è sintomo che secondo me anche nell'ambiente dello spogliatoio non si mastica una grande tranquillità e questo ovviamente incide sulle partite da parte nostra secondo me un grande genoa unico rammarico ho rivisto di nuovo questa cosa del chiudersi un pochettino il napoli è stato veramente molto arrembante io stenderei farei una standing convention per martinez che ha veramente parato di nuovo l'impossibile non è stata per intenderci un qualcosa di mi estremamente miracoloso come poteva essere stato con l'atalanta fino a una certa però martinez secondo me è stato determinante ottimo tutto il reparto difensivo da bani vasquez e de winter poi andremo con calma domani o dopo domani devo vedere con gli impegni quando uscirà il pagellone ad analizzare bene quelle che sono stati i voti di ognuno paura per matteo per quella botta alla testa secondo me girardino l'ha fatto uscire verso il secondo tempo anche in maniera preventiva per evitare altre cose vedremo se sabelli ha avuto questa distrazione che aveva già nel primo tempo diceva che ha avuto un colpo comunque ha sentito tirare a livello inguinale quindi speriamo che non sia un qualcosa di irrecuperabile per la prossima partita in casa comunque sostanzialmente un punto secondo me giusto ovviamente avremmo sperato in qualcosa di più però il napoli secondo tempo è stato veramente molto arrembante finale di partita assolutamente nel caos un punto che ci portiamo a casa molto volentieri bene giornali del multiverso per il post partita a caldo è tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivare la campanella noi ci vediamo domani o dopo domani perché forse ci sono degli impegni per quanto mi riguarda domani quindi vediamo se riesco a farlo uscire vi prometto il possibile per il pagellone e noi chiaramente ci vediamo con guardo il genoa con papà con i prossimi contenti ciao a tutti e buon weekend